138 nuovi casi di positività al covid-19, poco più di 14.000 test effettuati, c'è anche un nuovo decesso. I numeri della pandemia in Puglia, nel consueto bollettino epidemiologico regionale, scende ancora il numero degli attualmente positivi che si attestano a 2.566, anche grazie ai 150 negativizzati. 143 invece sono le persone attualmente ricoverate in area non critica nelle strutture ospedalieri e pugliesi. Una in più di ieri, 15 in terapia intensiva restano invece stabili. La provincia con più casi, nelle ultime ore quella di Bari, con 37 nuovi contagi, segue Lecce con 29, Taranto con 28, a seguire la Bat con 19, Foggia 17 e Brindisi 8 nuovi contagi. Ancora in calo il dato sull'incidenza di 100.000 abitanti, che si attesta in Puglia attorno ai 24 casi. Al 3% il tasso di occupazione di posti letto nelle terapie intensive, mentre poco oltre il 5% per l'area medica. Sul fronte ai vaccini, ci si attesta ormai attorno all'80% di prime dosi per la popolazione pugliese, mentre il 75% ha già completato il ciclo vaccinale, che ora si arricchisce anche della dose cosiddetta booster, che ha già raggiunto circa 7.000 persone più fragili in regione. Entrambi i dati sono ben più alti della media italiana.